L'anticiclone delle Azzorre estende la sua influenza a gran parte d'Europa e all'Italia centro-settentrionale, determinando condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato fino a giovedì. In Toscana, martedì 5 febbraio, cielo in prevalenza sereno, venti deboli o moderati da nord e nord-est con rinforzi sulle zone meridionali e sui rilievi, mari poco mossi sotto costa, mossi a largo a sud dell'Elba, temperature minime in calo con locali gelate in pianura, massime stazionarie e un lieve aumento, cielo sereno su tutto il territorio provinciale, a Lucca e nella Piana temperatura minima meno 2, massima 13 gradi, a Castelnuovo e zone montane minima meno 2, massima 14, a Viareggio e sul litorale minima 5, massima 15 gradi. Grazie a tutti! Grazie a tutti!